Un vero e proprio clan, dedito al traffico di cocaina nella provincia di Bari e della BAT, quello sgominato nella notte dai carabinieri del comando provinciale di Bari. I militari del nucleo investigativo del capoluogo, a conclusione di un'indagine condotta insieme alla direzione distrettuale antimafia, hanno arrestato nove persone accusate di aver importato su canali internazionali, attraverso l'asse Colombia-Spagna-Italia, ingenti quantitativi di cocaina. Fulcro delle indagini l'attività di Giuseppe Pasculli, 57enne di Andria, detto Ududec. Narcotrafficante attivo già dagli anni Ottanta e particolarmente attivo nella gestione dei contatti con trafficanti di droga napoletani e baresi per acquistare cocaina e poi rivenderla a livello locale. L'indagine registra una svolta quando Pasculli, intercettato telefonicamente dai carabinieri, si mette in contatto con esponenti del clan Parisi di Iapigia, che si attivano per rifornirlo di cocaina attraverso i propri canali. Il contatto fondamentale in Colombia era Marta Calderon-Gonzalez, già in carcere in Francia per traffico internazionale di droga, che faceva arrivare la cocaina dal Sud America in Spagna attraverso dei corrieri e poi spediva la droga in Puglia attraverso una rete di camionisti che facevano parte dell'organizzazione. L'ordinanza riguarda 13 persone. Oltre a Pasculli, Gonzalez e a esponenti del clan Parisi, sono coinvolti anche quattro camionisti, di cui due già arrestati. L'operazione è tuttora in corso e riguarda anche il sequestro di autovetture in uso a questi soggetti e ha riguardato esponenti anche del clan Parisi di Iapigia. Era un traffico ben strutturato, che andava avanti da diversi anni, ma con un lavoro molto attento e capillare da parte dell'arma si è riuscita a venire a capo di un sodelizio veramente efficiente nel territorio di Bari e provincia.